Ma bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzi siamo qua tornati per buttare soldi Praticamente perchè qua questo gioco il nuovo brawler non me li vuole dare Allora dall'ultima volta che abbiamo shoppato comunque sono usciti anche Maxine e Bea Quindi come dire io adesso soprattutto Bea deve uscire o esce o esce Non è che ci sia tanta possibilità Anche perchè oggi abbiamo questa offerta da 22€ davvero molto conveniente perchè ha un valore di oltre 100€ Quindi effettivamente ci sta un botto Ci da 6 megacasse, 450 gemme e 6000 d'oro Vi faccio vedere subito la questione percentuali nelle megacasse Percentuale che è altissima per gli epici ben 0,57 Quindi in 6 megacasse deve per forza uscirci Poi 0,26 per i mitici, 0,18 per i leggendari Tutti e tre sono molto alti in realtà Quindi se davvero non troviamo niente neanche a sto giro è davvero scandaloso Io lo dico, qui lo confermo È scandaloso! Ma prima di shoppare direi che bisogna arrivare a 10 minuti regà E quindi facciamo un paio di partite con il me del futuro E quindi regà abbiamo valle tra le rocce e chi possiamo mettere su questa mappa Magari tra quelli che non ho fatto a 600 Ecco Nita vi dirò la verità che potrebbe fare grandi cose Quindi sì mettiamo Nita e facciamo grandi cose Allora abbiamo una cassa Forse sì dai questa la dovrei prendere E chiaramente viene qua a fare il cagaca Ma che ti venisse guarda oh Niente eh niente non posso neanche prendere sta cassa Falla a prendere tu che ti tiro qualche Non tiro neanche nessuna bottazza Vabbè in realtà sì In realtà sì E se vede che in realtà E se vede che in realtà forse fu Eh sì mi sa proprio che qualcuno Qualcuno ci va a morire Sono morto io bellissimo Vabbè raga quella era solo di riscaldamento Sono solo dettagli Adesso iniziamo a fare sul serio Allora situazione praticamente uguale a quella di Ah adesso Non la prenderò io sta cassa tanto Beh certo Ora viene scegli a fare il cagaca Eee E? E niente Proviamo a fare la stessa cavolata di prima Vabbè sto più attento a sto giro Infatti vedi che qua ridendo e scherzando Sì L'ho hittata anche lei ha hittato me Però 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 L'orsetto ormai è tra noi E scegli Sta venendo chiusa dalla safe Dalla tempesta Dalla nube chiamatela come vi pare Eee Io direi che se tiriamo l'orsetto qua Secondo me raga Usa la star power va bene Raga ci muore A sto giro c'è andata a morire Bellissimo Orsetto portami dalla prossima preda Fammi capire chi è Dov'è? Brutto figlio di un bull Bella bro Becati sta bottazza Becati anche questa Becati anche questa Regà? L'ho distrutto No ok niente Scherzavo Arrivati a questo punto In realtà potrebbe essere un po' pericolosa la questione Perché abbiamo Il bull che è camperato lì E si sta divertendo molto a giocare così E poi abbiamo il corvetto Che vuole fare il cagaca con me Però se io adesso vado a fare il cagaca da bull Magari bibi capisce che No niente Non capisce assolutamente Ma che voglio? Ma fatti Ma regà ma tutti con me ce l'hanno no? Regà la vedo di un male qua Posso dire che la vedo proprio male 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 Regà Che sta succedendo? No ma che ti venisse guarda Ma adesso sono vivo per un pelo Bellissimo Bellissimo Prendo questi Ciao Comunque siamo quarte quindi Tutto sommato va bene Potresti morire Ci muore Ci muore E ci muore Bellissimo Arriviamo in secondi Regà va bene Va bene Non c'è nessun tipo di problema Guarda magari se piglia bene Possiamo fare di più Vai rossetto Vai a fare No quanta vita Regà l'ho detto Quello iniziavamo a fare Sul serio L'ho detto Ma se l'ho detto L'ho detto Bellissimo Fantastico Stupendo Magnifico Fuori testa Dai regà Regà direi che un'altra partita Qua Si può fare Abbiamo comunque perso Prima Quindi bisogna Ricoperare un attimo Madonna ogni volta Qua la situazione È sempre la stessa Però in questo caso In realtà Io sono Ma voleva morirci Voleva morirci È palese Come cosa Bella aver colto Un mito Però ti vedo messo male Però ti vedo messo male Però Eh Sì adesso BB si busta Come se non ci fosse un domani Ma qua non c'è nessuno Vero no Eh regà Non la vedo Male Ma neanche bene Oddio Ora in realtà Sai che Se proprio devo dirti la verità Inizio a vederla già leggermente meglio Quella questione Aspetta 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 Ma dopo ha distrutto Ha dato una bruttazza Vabbè niente niente Scherzavo Ti voglio bene Aspetta che qua Regà qualcuno ci deve morire Ecco vedi mortis Mi sembri proprio predisposto Però adesso si va a bustare Ancora di più Usala alla special Va bene Si va a bustare ancora di più BB Però almeno siamo quinti Quindi il più due c'è Bella per dynamite Bella bro Ma dai ma che brutta hit L'ho preso una Una volta Dai BB Senza paura Ci sono io Vai BB Su No ma che vuoi oh Ma che vuoi questo Ma sei pazzo frate Così No ma tranquillo Ma ti Eh vabbè c'era pure Shelly Camperata Allora ditelo che Eh si può Se sta cadendo il devasto Alla fine vince dynamite Guarda che vince dynamite Guardalo 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 Come vince Guarda No non vince O vince Oddio non lo so Ormai voglio vederla No ormai questa va Regà vince dynamite Regà vince dynamite Quello che doveva morire per primo Alla fine ha vinto Vabbè mi sembra Mi sembra giusto Doveva andare effettivamente così Ma ora regà Arrivato il momento 22 euro Vai Ed eccoci qua regà Mentre i soldi stanno girando Tra i sei Oh eccolo Oh mio dio Perché si Perché si bugga a volte Allora regà Ci siamo 450 gemme Tantissima roba Veramente immensa Sta roba qui Ma andiamo avanti Perché ora abbiamo l'oro Ben 6000 d'oro Di oro ne ho davvero tanto Regà comunque Ma adesso Sei schifo raga Subito Era la prima Era la prima Va bene Oddio Già inizia ad avere paura Raga Comunque 235 di oro 7 di bombardino Che possiamo maxare Dai Va benissimo Il bombardino 9 di Jesse Che è sta roba 23 di colpa Che è sta roba Qua una tot di penny E poi Ben 3 bonus La madonna 4 ticket Che va bene La doppia Che va bene 6 gemme Che ovviamente Va bene Ok raga Va bene Va bene Va bene Prossima mega cassa 5 skip 3 Gpam 28 Jesse 31 Piper 33 del primo E 64 piccari Ancora 3 bonus Ticket La doppia E ben 11 gemme Oh regà E li fai le butti 11 gemme Mortacci Va bene Io comunque Arrivati a questo punto Direi che È arrivato il momento Di aprirla Da girato Quindi 3 2 1 E tomo E skip A questo punto Saranno esattamente 5 Siamo a metà regà Ancora 5 No Pocio 11 Solo 20 dynamite Frencone 44 E corpo Che va bene Possiamo potenziare Ci sta E infine B Ma che ora Dà sempre 3 bonus Dopo l'aggiornamento Può essere Ma può essere Va bene 12 gemme Vabbè Non è che il gioco Mi sta dando tutte ste gemme Per dire Guardi Io ti do le gemme Ma non ti do il brawler Quindi No 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 O forse per dire Guarda Ti sto dando tante gemme Perché il brawler è qua Adesso Quindi guarda Vado proprio Tomo Così 5 Ma stiamo scherzando Ma Ma ancora non mi esce Sto brawler Oh Il te l'ha di Eugenio Il te l'ha di Jesse 50 stecca 100 bonus Ma ecco Ora 2 bonus 5 tic 5 tic Regà Quante gemme Ma va bene Cioè in realtà Non va bene Perché non trovi un brawler Ma ora si però Allora Credo ce ne sia un'altra Credo 11 emz 12 Jesse 23 Eugenio 38 bro Ora 100 di Solo 50 di rosa 11 gemme Grazie mille Ti prego Non guardo raga Non guardo ancora Non guardo ancora No perché Adesso esce raga Tranquilli Cioè ora Se ve lo dico Che esce esce Non ti preoccupate Quindi Guarda Mi giro 3 2 1 E Tomo E' uno scherzo No raga Io non ci voglio credere Ma raga ma Ci avrò scioppato Dall'ultima volta Che ho trovato un brawler Almeno 150 euro Di solo offerte E non mi vuole No vabbè Forse 150 no Ma almeno 100 Credo proprio di si Perché questa qua E' la seconda Da 20 Più altre Ma d'ora Non ci voglio credere Cioè ma sei serio? Dio mio E' giustamente 5 gemme Non potevi darmene 27 Regà non avete idea Di quanto io sia tentato Di prendere questo spike Ma i brawler Regà l'ho detto Vanno trovati Vanno trovati E non bisogna sprecare Sprecare No perché Delle 2 ho sprecato Io 22 euro Però vabbè Almeno abbiamo trovato Qualche potenziamento Possiamo portarne 3 al 9 Che per ora Non faccio Perché me li sto tenendo Per un video Più insomma L'abbiamo tanti All'8 Quindi dai Gira e rigira Corv lo possiamo fare all'8 Vabbò Eeeh Regà che dire Io dire che per questo video Che possa essere tutto Purtroppo E andate come è andata Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Per a quando un bel like E iscrizione con campanellina Noi come sempre Ci mettiamo alla prossima Con una nuova sciuppata Non lo so Eeeh Bella regà Ciao 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 ciao